Aveva finito un po' sulle ginocchia, però felice della medaglia di bronzo. Leotlela sì, perché ancora margine. Hamish Gill, corsia 8 per... Norman! Michael... Non è partito Mario Burns. E Norman fa decisamente il suo. Michael Norman Junior, un primato da 20 a 14. E fa questo 20 a 73 con questa sgambatina. La cosa bella è che in corsia 3 c'era Vinicius Moraes, non De Moraes in questo caso. La squadra brasiliana ha presentato i suoi due atleti, tutti e due, nella finale.